E per to' apilava, e filava la lana, la lana e l'amianto, del vestito del santo, che andava sul rogo, e mentre bruciava, cullava e piangeva, e la gente diceva, americca e santo, vestito da mianto. E per to' apilava, e filava con Mario, e filava con Gino, e nasceva il bambino che non era di Mario, che non era di Gino. E per to' apilava, e filava tritto, e filava di lava, e filava, e filava, e filava la lana. E per to' apilava, e filava, e filava, e filava la lana. E per capilava, e per capilava, e per capilava, e filava la lana, filava la mia amicola, il vestito del sangue, cantava sull'oro, e mentre bruciava, urlava e piangeva, e la gente diceva, a me di che sangue, vestito da mi amico. Il cane c'entra moltissimo perché nell'Epping Nuova si chiama Mio Fratello e Figlio Unico, e penso che niente, esprime proprio il concetto di emarginato, di escluso, che appunto questo Mio Fratello e Figlio Unico, meglio di un cane, cioè il cane è la solitudine per eccellenza. Il discorso in fondo è sui poveri cani che siamo tutti quanti noi, abbastanza vulsi proprio dall'incontro umano e abbastanza soli, cioè praticamente siamo abbastanza messi da parte uno con l'altro.